Ciao, sono Michela Barucco, owner di CrossFit Bareggio e coach di CrossFit Kids. A CrossFit Bareggio organizziamo corsi per bambini dai 4 anni e per teenager fino ai 17 anni, ormai da due stagioni. È un corso che funziona molto bene, anche se non è facilissimo convincere i genitori dei vantaggi che il CrossFit può portare ai bambini. I motivi per cui il CrossFit è molto adatto per bambini e ragazzi sono diversi dal fatto che allenano finalmente tutto il corpo sviluppando forza, coordinazione, ritrovano schemi motori che hanno perso durante tutti questi anni di studio. Ricordiamo che i bambini fin dall'elementare trasportano delle cartelle pesantissime, quasi la metà del loro peso corporeo e il risultato è che la loro postura è già rovinata a 6-7 anni. Nel CrossFit, come sapete, i movimenti funzionali sono alla base di tutti gli esercizi e di tutti i circuiti che proponiamo ai bambini. Ovviamente sempre alternati a momenti di gioco, a attività di gruppo, team WOD che gli permettono di imparare a collaborare, a entrare in sintonia con gli altri. Nei nostri corsi sono presenti anche bambini e ragazzi con disabilità che si allenano insieme ai bambini normodotati, perché secondo me è molto importante che imparino a interagire e a comportarsi nel modo più naturale e rispettoso possibile. Per quanto riguarda il sollevamento pesi, che è un argomento abbastanza controverso riguardo ai bambini e agli adolescenti, io propongo esercizi di powerlifting e di weightlifting dall'età prescolare, 4-5 anni. Devo dire che qualche bimbo ama moltissimo provare i propri massimali, ma chiaramente non è una cosa che gli lascio fare molto frequentemente. Un aspetto fondamentale del CrossFit Kids e del CrossFit Teen è l'impatto sull'autostima e, passatemi il termine, terapia per i ragazzi difficili, soprattutto gli adolescenti. Entrano qua che sono abituati ad essere giudicati, oppressi, mentre in un box di CrossFit trovano un ambiente aperto, un giudicante in cui tutti sono uguali, non importa se vai male a scuola, vai bene a scuola, se a volte ti arrabbi, se urli. Per cui noto anche negli adolescenti difficili che dopo qualche mese iniziano addirittura a sorridere, che è un atteggiamento che a volte dimenticano. Quindi vi invito a provare a proporre prima magari ai figli dei vostri soci e poi anche a soci esterni il CrossFit Kids. Grazie. 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 Grazie.